l'america dei cowboy testimonianza di giovanni giacomo ruatta nato alla frazione rio torto di verzuolo classe 1885 contadino eravamo nove di famiglia io sei sorelle e due fratelli orfani di padre e madre vivevamo basta che sia in un ciabutinot di 12 giornate eppure tutti in salute una salute di ferro mangiavamo nel 1903 mio fratello sandro era della classe 1881 torna dalla francia dopo due anni di miniera e mi fa andiamo in america io ho i soldi per il viaggio e tutto ciò che ci occorre sandro suonava l'armonica sul bastimento avremmo anche avuto un po di allegria sei o sette giovani di piasco e villanovetta decidono di unirsi a noi la società di saluzzo ci organizza il viaggio 150 lire la spesa del biglietto a testa il più giovane ero io con 17 anni abbiamo pensato della campagna siamo pratici abbastanza poi se c'è da andare nelle mine andiamo nelle mine a casa c'è poco da guadagnare laggiù il vitto è a buon prezzo e poi la paga è superiore siamo partiti in silenzio vicino natale ci siamo imbarcati a genova sul bastimento spagnolo manuel calvo eravamo tutti emigranti 300 e passa a napoli a palermo ne abbiamo caricati altri solo uomini della bassa italia mangiare si mangiava ogni squadra andava a prendere la minestra alla cucina con un grosso catino poi veniva distribuita nei piattini di latta barcellona malaga cadice bei costi poi diretti a new york prima dello sbarco la visita medica mi hanno guardato in faccia fatto buono e via nevicava 44 gradi sotto zero noi non pativamo niente noi avevamo solo un giaccone alla bella e meglio gli altri tutti incappottati in un albergo vicino al porto i padroni erano italiani piemontesi anche e ci dicono subito oggi facciamo la polenta e coniglio uso piemonte intanto dalle miniere lontane 2000 chilometri telefonano se c'è qualcuno che vuole andare nelle mine noi eravamo destinati per andare diretti in california ma la proposta del padrone dell'albergo ci sembra conveniente ci dice hanno telefonato dalle miniere del colorado se andate lì lavorate sei mesi con una bella paga poi vi pagano il viaggio per andare in california gratis due giorni e mezzo di treno e arriviamo a sarville l'america a momenti è come un altro piemonte ci sono tutte le lingue ma riusciamo a farci capire prendiamo alloggio in una casa della compagnia delle miniere noi nove assieme ci facciamo noi il mangiare una sera un albergatore sente sandro che suona l'armonica e ci vuole tutti nel suo locale è un albergo di piemontesi e il padrone offre a sandro di suonare tutte le sere guadagnando una buona paga nel lavoro di miniera c'è un po di pericolo ogni tanto scoppia il gas sbatte lontani travi allora dico a sandro è meglio che tu non venga più nella mina tu hai solo da farci da mangiare e poi vai a suonare all'albergo e guadagni la tua buona paga nell'albergo dove suonava c'erano sempre centinaia di operai si ballava tutte le sere c'erano italiani francesi tedeschi russi sono bravi russi brava gente e lavoratori andavamo d'accordo lavoravamo in una mina da carbone sette ore al giorno c'era un po di pericolo ma armavamo sempre toccavamo col picco po per capire guadagnavamo sette otto dollari al giorno tanti in proporzione dell'italia che si guadagnavano due lire al giorno il mangiare costava poco con uno scudo al giorno con cinque lire con un dollaro si mangiava a volontà sei mesi poi comincia ad andare male comincia lo sciopero tutte le miniere ferme perché gli operai volevano le paga differenti noi non eravamo per gli scioperi l'unione una specie di sindacato dava da mangiare gratis a chi scioperava una minestra basta che sia roba scadente cattiva allora siamo andati con i cowboy a me un mestiere un po selvaggio a governare le bestie a mungere ci davano da mangiare poi abbiamo sentito che in california c'erano dei piemontesi gente dei nostri ci siamo spostati a san francisco abbiamo trovato lavoro con i muratori che costruivano fabbricati per una grossa ditta americana palazzi di 60 piani di altezza un mattino nel 1905 sono lì che mi sto alzando sento un rumore vu 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 mi dico scommetto che il terremoto si è messo a scuotere a tremare tutti i palazzi erano di legno in un momento tutta la città prende fuoco la terra si era abbassata le rotaie della ferrovia erano per aria tanti morti siamo scappati un po fuori in montagna a vivere sotto le tende poi siamo andati nel washington a lavorare in una galleria per treni con la compagnia great nord c'erano dei mille operai a picco e pala guadagnavamo 6 7 dollari al giorno la compagnia si tratteneva un dollaro per la mensa sandro di giorno lavorava nella galleria con noi di notte andava a suonare l'armonica negli alberghi dava anche lezioni di armonica cominciava a commerciare a far arrivare armoniche dall'italia dopo un anno il lavoro alla galleria è finito troviamo una buona paga nelle grandi boschine attorno a pod costa a disboscare buttavamo giù grosse piante di legno rosso radut un legno dolce che con gli anni e l'umidità diventava più duro del cemento serviva a costruire palazzi eravamo dei mille operai due anni e passa poi decido di girare un po l'america a piedi seguendo il destino da solo soletto con un fagotto sulle spalle dove trovo lavoro mi fermo alla buona avventura a girroi vicino a san giuseppe di california in un'osteria toscana incontro un cowboy che mi dice nel vederti sembra che tu sia piemontese ed io no non sono piemontese sono di saluzzo mi offre un lavoro mi accompagna a monte madonna in una delle grosse cascine del miliardario miller nock un grande cowboy del quale era fattore l'indomani su un bel cavallo rosso e sella bianca arriva miller nock un uomo di 70 anni miller nock mi racconta i suoi passaggi di quando girava in lungo e in largo per le praterie con sei uomini armati di pistole come incontrava un villaggio cercava l'osteria primo saluto un colpo di pistola ben nel pavimento di legno del salone poi chiedeva ho fatto qualche danno e offriva da bere a tutti aveva idee buone era gente che capiva qualcosa partiva da los angeles con 20 bestie arrivava al mattatoio di san francisco con 3.000 4.000 bestie non le rubava mica montagne di qua e montagne di là erano le bestie che si univano alla mandria le bestie valevano solo 50 lire luna tanto i tori come le vacche la terra valeva uno scudo 5 lire per giornata cosa farne con tutti quei soldi che guadagnava col bestiame comprava terra non per larghezza per lunghezza 47 milioni di giornate di terra aveva comprato nelle sue terre passavano le ferrovie san pacifico e santa fe dopo monte madonna vado a lavorare nelle vigne e nei frutteti a santa clara di san francisco il mio nuovo padrone è un americano un miliardario arte pierce santa clara di california numero 11 padrone di 500 giornate di vigna e 400 di frutteto lavoro alle vigne ho il mestiere ero già pratico le paghe non sono tanto alte ma si mangia e si beve bene crescono tutte le razze di qualità del piemonte quagliano moscatello barbera dolcetto le viti sono basse facili da lavorare i filari sono distanti si passa con i cavalli macchinari il clima è buono all'estate mai temporali l'uva resta passita dei grappoli grossi così attaccata finché non fa 22 gradi zuccherini niente verde rame solo zolfo si adopera e tanta frutta ciliegie pesche albicocche anche lì c'è l'unione alle 5 pomeriggio le fabbriche fischiano passa il padrone a dirci di smettere soltanto nella stagione del raccolto facciamo più di 8 ore il fattore è piemontese alessandrino vigiù ravizza suo figlio don ravizza oggi vive a costigliole d'asti nel 1915 viene la guerra e ricevo la cartolina mi chiedono se voglio servire con l'italia o con l'america tanto è qui come la scelgo l'america il sergente mi mette una mano sulla spalla mi dice prenderai poi una bella pensione il servizio militare non è pesante mi salvo tre volte da partire per la francia e una volta per la russia torno sovente a santa clara di san franzisco le bevande sono proibite faccio provvista di qualche barile di vino così tengo allegri il mio sergente il mio capitano nel 1919 mi congedano con un grosso premio allora riprendo il lavoro alle vigne sempre con la stessa famiglia con arte pierce mio fratello sandro intanto ha messo su una bottega fa venire dall'italia 3000 armoniche al mese da stradella vercelli ancona vive a chicago dove anche aperto una fabbrica e mi vorrebbe con lui ma chicago non mi piace troppo fumo grandi fabbriche troppi rubalizzi troppo pericolo quelli della bassa italia hanno organizzato una società la mano nera chiedono soldi la città sembra fatta apposta per i ricatti ammazzano i negri hanno un loro quartiere come quelli della bassa italia gli italiani non sono ben visti né a chicago né a san francisco la storia di sacca e vanzetti lo dimostra erano anarchici innocenti è lo spagnolo che ha ammazzato loro erano innocenti eppure sono finiti sulla seggiola elettrica nel 1929 sandro mi chiede se voglio andare a fare un giro in italia rimpatrio con il bastimento americano la quitania un lusso tutti seduti a tavola come nei ristoranti cosa fare a riotorto mi sposo mi sistemo in un ciabot sopra vernasca le tiro un po lustre stento un po a tirare avanti devo soccorrermi facendo il manovale a ore nel 1934 arriva sandro ma come fai ad andare avanti mi dice mi aiuta mi passa un mensile una pensione nel 1938 sandro muore avvelenato a chicago l'ha ammazzato una donna giovane che viveva con lui una donna di roma è scappata con tutti i soldi di sandro lui le aveva dato tutta la fiducia è andata così qui il peggio è venuto con l'ultima guerra del 1940 un disordine straordinario la gente non sapeva più cosa pensare tutti spauriti una parte degli uomini li mandavano in germania una parte li fucilavano roba dei partiti facevano i rastrellamenti in una baita all'alpeggio su in montagna 22 in un solo colpo ne hanno uccisi i partigiani un giorno bruciano 80 e più case a venasca anche la nostra casottina bruciano vengono dei russi prigionieri tedeschi bravi io mi arrangio con qualche parola di russo dico che sono stati in america e andavo a lavorare con i russi nelle miniere e nel taglio dei boschi e facevamo allegria con loro un ufficiale guarda la mia casa bruciata ben bene poi mi dice domani tutto fatto l'indomani arrivano con coperte materassi camice e anche da mangiare un po di tutto bravi i russi